L'Abruzzo è la regione italiana in cui si gioca più d'azzardo, con oltre 1500 euro spesi pro capite ogni anno. Quella di Teramo è la provincia abruzzese con il più alto tasso di giocatori con profilo di rischio dipendenza moderato o severo, il 5,5 sul totale. Sono stati questi i dati che hanno spinto la ASL di Teramo tramite il servizio per dipendenze psicologiche ad avviare due iniziative per contrastare il rischio di ludopatia. Una guida che contiene informazioni sui rischi correlati al gioco d'azzardo e ai riferimenti delle strutture sanitarie a cui chiedere supporto e l'istituzione del 7 giugno della Helpline, ascolto ed aiuto per rischio dipendenze comportamentali. Riguardo al gioco pro capite, l'Abruzzo è la regione dove si gioca maggiormente in Italia, con una spesa di 1506 euro rispetto a una media nazionale di 1229 euro. è Teramo, la provincia di Teramo, è la provincia dove c'è il gioco d'azzardo pro capite maggiore della regione Abruzzo. Abbiamo attivato una Helpline, quindi richieste di aiuto per chi ha delle problematiche nel rapporto sia con il gioco d'azzardo ma anche nel rapporto con internet, ad esempio nel rapporto con i videogiochi. Tra breve diventerà il gaming disorder, cioè la dipendenza dai videogiochi, diventerà una diagnosi nell'ICD11. A gennaio 2022, quindi in questo manuale diagnostico, diciamo, in questa classificazione delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità viene inserita proprio la malattia, la dipendenza dei videogiochi, il gaming disorder. Una patologia che purtroppo molte volte viene sottovalutata. Sì, io credo di sì. Credo di sì, credo che ancora non ci siano dati, molti dati. Un dato però c'è, per esempio, nello studio Casos 2019 rispetto all'Abruzzo, si è evidenziato come il 9% dei giovani studenti abruzzesi tra i 15 e i 19 anni abbia un utilizzo compulsivo di internet, quindi alcuni dati emergenti già ci fanno comprendere la portata del problema ma c'è molto ancora da approfondire e da fare al riguardo.